Il processo di elaborazione del lutto, in base all'intensità del legame affettivo interrotto, alle sue modalità e a diversi fattori, protettivi o di rischio, può essere di durata e complessità variabile. Solitamente, nella sua fase acuta, viene completato entro 6 a 12 o anche 24 mesi in caso di perdite di figure relazionali primarie, genitori, figli, partner, fratelli sorelle, anche se non sono infrequenti possibili. Se quelle per periodi successivi, si deve comunque tenere conto che il processo di elaborazione è fortemente soggettivo e può durare per tempi assai variabili in base a fattori personali e situazionali. Il ricordo è affidato a Francolino Bondi, dirigente della società e presidente del Consiglio Comunale. Sono molto addolorato. Beppe era un mio amico fin da ragazzo e nella vita ci ha accomunato la passione per il calcio e l'attaccamento al nostro Castelnuovo, dice Giuseppe Bacci, non è stato però un semplice e grande tifoso ma, per anni, prezioso e instancabile collaboratore prima a fianco del magazziniere Bruno Nesi e successivamente in completa autonomia dimostrando grande capacità e dedizione. Dirigenza e giocatori. Che si sono succeduti nel tempo. Lo ricordano con amicizia e tantissimo è il dispiacere per la sua inaspettata scomparsa. Alla famiglia, Luz Castelnuovo Garfagnana. In tutte le sue componenti, porge le più sentite, affettuose condoglianze.